buongiorno a tutti e benvenuti a questa video analisi settimanale partiamo come al solito dal cambio euro dollaro che ci ha mostrato la sua forza andando diciamo così a muoversi al di sopra dell'area 1 0 8 al di sopra quindi di questa resistenza che abbiamo visto lavorare qui e abbiamo visto anche tutta intrapresa nel suo interesse a rispingere ogni velleità cosa succede sopra 1 0 8 beh intanto succede che si entra in un'area di congestione e quindi perché no essa potrebbe anche ripetersi e eventualmente riuscisse addirittura ad arrivare in quest'area diciamo superiore a 1 11 si entrerebbe in ulteriore zona di grande congestione quindi attenzione perché comincia ad arrivare una fase in cui l'euro potrebbe essere laterale che cosa è successo però in questo particolare contesto è successo che il dollar index si è riportato nella fase pre guerra nella fase in cui non c'era il dollaro forte diciamo così a mantenere tutto il contesto e quindi si è ritornati in quel range che per oltre vent'anni ha visto il dollaro protagonista di una oscillazione sull'euro sempre al di sotto di 103 3 come vedete insomma siamo tornati laddove eravamo venuti durerà questo beh evidentemente è difficile dirlo è difficile saperlo però diciamo stiamo a vedere allora andiamo ora a vedere che cosa succede invece sul rendimento americano che rimane stabile intorno a 350 questo bottom che secondo me come ho già detto in più occasioni si ratifica diciamo così se si va sotto il rendimento di 350 rimane lì non rimane ancora con la voglia di andare a testare altri livelli e quindi per ora noi continuiamo a rimanere in un'area dove noi abbiamo un bel triangolo in questo caso ribassista dove si vede chiaramente che il rendimento sta schiacciando un po verso il basso stiamo a vedere che cosa capiterà nelle prossime sessioni andiamo a vedere anche che cosa succede al crude oil perché il crude oil è inserito in un range significativo che è quello tra i 71 dollari di questo minimo i 93 dollari di quest'area che ha respinto sempre ogni velleità praticamente nella seconda parte dell'anno e poi quest'area degli 82 che funge da spartiacco ci siamo molto vicini vediamo se sarà in grado di arrivarci loro invece si staglia ancora verso l'alto e va a chiudere a 1921 siamo quindi su livelli molto elevati e siamo su livelli per trovare i quali si deve andare molto molto indietro nel tempo quindi siamo su quest'area di prezzo intorno ai 1915 1920 sopra questo livello si va a 1980 cioè si va nei pressi dei 2000 questo è ciò che l'oro ci sta mostrando assolutamente in questo momento un'occhiata attenta anche alla volatilità che torna dopo tanto tantissimo tempo sotto 19 siamo attualmente a 18 34 siamo su livelli più bassi di quelli diciamo così sotto questi livelli c'erano stati proprio solo a inizio 2022 quando tra fine anno iniziano partì poi il grande ribasso tutto il 2023 quindi torniamo in un'area dove i mercati conoscono bene soprattutto la parte del rialzo stiamo a vedere se per farlo stabilmente oppure solo momentaneamente andiamo a vedere gli indici allora ecco qua la semplice 200 e vediamo che anche la semplice 200 ha rotto gli indugi e si è posizionato a rialzo se noi andiamo a tracciare una trend line ribassista che passi per i massimi insomma che passi per i livelli che abbiamo visto insomma dobbiamo anche ammettere che qui il nasilo l'abbiamo messo fuori timidamente stiamo a vedere non dimentichiamoci che comunque le resistenze vere passano per 4.150 qui per 4.300 qui e tutto sommato c'è poi tutta quest'area di congestione perché fino ai 4.070 lo vediamo qua quest'area è tutto un livello di congestione del prezzo in cui si potrebbe anche incappare come vanno gli altri istini beh anche il nasdaq ha ripreso coraggio è l'indice che come dire poco tempo fa più di tutti è stato vicino al rischio di affondare sotto il supporto ora sembra invece rilanciato verso l'alto di questo range sono i mercati sono in un momento particolarmente favorevole lo si vede anche sul russell che arriva sulla resistenza dopo avere congestionato a lungo lo vedete qui siamo proprio nei pressi di una resistenza intorno ai 1900 punti molto molto interessante e poi lo fa anche il Dow Jones che vediamo bello pronto anche se ha fatto un po più fatica ma si è di nuovo slanciato verso l'alto l'Europa l'Europa beh va molto bene basta vedere qui con l'Eurostock ormai stabilmente rientrato in quella parte del range che sta sopra i 4.000 punti quindi che sta sopra il pregresso noi non siamo più nella fase in cui ci siamo infilati finanziariamente parlando da quando è scoppiata la guerra siamo tornati sopra nei livelli precedenti la stessa cosa ha fatto anche il DAX che ha violato in una sola settimana non solo la resistenza dei 14.800 punti che è questo livello qui non solo diciamo i 15.000 ma sta andando a pieno titolo diciamo così a riposizionarsi in questa parte qua del grafico dove c'è stata un'ampia con gestione durata un tempo anche molto lungo quindi davvero davvero interessante allora andiamo a vedere anche da questo punto di vista che cosa è successo al nostro Fuzzimib e il nostro Fuzzimib lo vediamo tanto come dire abbondantemente al di sopra di quella soglia dei 25.000 punti ma soprattutto molto vicino a questa soglia diciamo così che potrebbe indicare anche per il nostro indice il ritorno in un'area di congestione del prezzo che vediamo appunto a lungo rimasta qua in auge e che poi ha visto anche il test di quell'area intorno ai 28.000 che sono i massimi di periodo post covid raggiunti come ben sappiamo a cavallo diciamo nel 2021 e poi a cavallo tra il 21 e il 22 lo vediamo bene qui quindi insomma davvero interessante allora graficamente ci sono tanti titoli anche piacevoli da vedere a partire da azimut che si muove con decisione verso l'alto quella 2a segnalata con il potenziale testa spalle che è andato in breakout e ci ha fatto vedere cose molto buone ma stessa banca generale nonostante sia una resistenza sia sulla resistenza interessante ci ha fatto vedere cose buone sono forti le banche lo vedete qui hanno raggiunto livelli grafici veramente molto interessanti tutte sono andate a testarsi dei livelli topici adesso bisognerà vedere che cosa vorranno raccontarci arrivate qui no ancora spazio sembra avere invece intesa che come dire si muove in mezzo al guado e a tutte le praterie aperte davanti e la stessa unicredit che non è ancora arrivata al test di un livello che è quello a cui invece sono arrivate sia biper banca che popolare milano che è quest'area di prezzo qua ci sono quindi anche altri titoli che hanno fatto molto bene tra quelli che avevamo individuato per esempio c'è i veco che sta proprio dando l'idea di essere nel pieno di un di un round in bottom andiamo a vedere come si è andato delineando dal momento della quotazione questo minimo arrotondato che come vediamo sembra proprio accompagnare le attuali quotazioni e siamo sul livello topico cioè se superiamo questa soglia allora il movimento si può anche conclamare viceversa ci sono dei supporti sotto a tenere botta e ci sono anche titoli che fanno parte un po della famiglia di quelli che abbiamo evidenziato che chissà magari potrebbero anche arrivare solo con un po di ritardo per esempio era rispetto ad a 2a sta adesso arrivando a disegnare il testa spalle testa spalle che ha già disegnato anche nello vediamo bene qui e che è bella slanciata anche se arriva in un'area di resistenza in un'area di congestione insomma ci sono tanti titoli sul nostro listino che hanno bei grafici da questo punto di vista ce ne sono alcuni invece che come dire hanno grafici un po deludenti tra quelli che hanno bei grafici mi viene da ricordare per esempio anche buzio dice me la vediamo qui da questo punto di vista da questa prospettiva e vi mostro anche quello di cnh perché poi voglio ragionare con voi su un titolo americano ma andiamo a vedere quelli che invece sembrano sul nostro mercato avere invece ancora essere un po indietro allora è palese che nexi ha reagito però è lontana dai livelli di resistenza gli altri titoli sono la mai impianta stabile sopra questo livello quindi attenzione perché si tratta di un titolo che può avere strada da fare ma è rimasto parecchio indietro qualcosa di simile è successo anche a recordati andiamo a vedere qui il grafico vedete fatto ancora di minimi decresce di massimi decrescenti quindi una situazione un po particolare tra questi c'è anche campari che a lungo è stata protagonista sul nostro indice è in un ampio trend laterale ma sta facendo fatica lo vedete qui non questo ampio trend che va avanti da tempo sta facendo fatica a superare questa resistenza intermedia non ci sia ancora avvicinata e quindi poi magari chissà tentare di raggiungere la parte alta è interessante invece guardare stellanti perché perché stellanti se tra quelli che hanno un po deluso lo si vede bene se continuiamo a percepire che è vero che c'è una sequenza di minimi crescenti però c'è una fatica enorme portarsi sopra i 15 non quindi è uno di quei titoli che a mio parere stanno un po deludendo ci sono ancora due titoli che sono interessanti una tele con l'oggetto tante volte non è mai tra i titoli favoriti che io comprerei però la figura grafica interessante sopra questa resistenza si staglia 0 3 come livello diciamo utile dopo un livello intermedio 0 27 che comunque graficamente va rappresentato infine guarderei in ultimo stm perché stm a un bel grafico è stato protagonista di un dischetto rialzo ma attenzione perché stiamo arrivando sulle soglie della resistenza forte ma è vero che anche qui c'è un bel triangolo in essere quindi stiamo a vedere e allora passiamo a guardare anche sotto svariati aspetti alcuni titoli americani intanto farei vedere subito che ci sono alcuni titoli importanti che stanno mettendo in piedi un po di reazione questa per esempio apple ma se posso dire rispetto apple mi piace molto di più amazon perché vediamo che la reazione di amazon è stata una reazione un pochino più forte lo vediamo qua e invece se proprio ancora devo dire tra queste forse quella che mi attrae di più a breve termine è proprio questa berkshire che come vedete nei pressi di una resistenza dovesse andare oltre sarebbe davvero davvero interessante ci sono anche due titoli di settori simili che hanno grafici particolari allora oracle si è mossa bene ha superato una forte resistenza si staglia rialzo e sa potrebbe fare un piccolo pullback comunque insomma trovare un pochino di resistenza qui ma se fa anche break out di questo livello poi diventa ancora più interessante e adesso fa diciamo così anche un po da contrapeso una intel che è vero che viene da un periodo accio non lo sappiamo però questi due minimi crescenti che però possono essere considerati un doppio minimo che si romperebbero alla diciamo con chiusure sopra questo livello possono diventare anche qui qualcosa di interessante sempre per rimanere un po sul tema taiwan semiconductor titolo che ha un bel grafico ha fatto recentemente un bel gap e diciamo a nei 91 e 20 e spiccioli diciamo così la resistenza poi più significativa stiamo a vedere come si potrebbe comportare vi ricordate prima vi avevo fatto vedere cna che vi ho detto tenetela lì un attimo perché poi guarderemo questo è caterpillar guardate che bel grafico nuovo massimo qua significativo molto interessante graficamente caterpillar davvero mi piace devo dire forse uno dei più belli da questo punto di vista graficamente tra quelli interessanti sul mercato americano citerei ancora farei un passaggio su una netflix che dai minimi sembra reagire adesso siamo in diciamo chiusura di questo gap lo vedete qua in maniera molto chiara e poi siamo su una pendenza di salita piuttosto verticale superamento di questa soglia si porrebbe diciamo così un livello di successiva resistenza molto interessante sul titolo stiamo a vedere graficamente non mi dispiace per niente in ultimo parlerei di veri sign perché parlerei di veri sign perché eccolo qui graficamente mi piace è diciamo in un range ampio e ha rotto una bella dinamica insomma è un grafico di quelli che piacciono anche a me con ancora la possibilità di dare qui c'è un bel triangolo ma anche con una certa forza relativa se vi faccio vedere questo aspetto grafico più limitato alle ultime battute forse si può meglio apprezzare il movimento che vede bene in questo triangolo diciamo così e il superamento qui era stata con gestione di questa soglia di prezzo lo vedete avvenuto nelle ultime sessioni ma ancora con del potenziale insomma direi che per questa settimana è tutto è stato bello essere con voi alla prossima ciao